Ancora qualche giorno di disagio per i residenti di via Salvatore De Renzi, strada chiusa dal 31 luglio scorso e del quartiere Canalone di Salerno. Ieri l'Aggiunta Comunale ha approvato il progetto per la messa in sicurezza del costone che incombe sull'arteria stradale salernitana, in cui il traffico è interdetto da oltre un mesi, ovvero dopo l'incendio che si verificò sul Colle Bonadies. 200 mila euro, tanto ha stanziato l'amministrazione comunale per poter procedere così agli interventi che, come annunciato dal primo cittadino Vincenzo Napoli, potrebbero partire già domani, come detto, dopo gli oltre 30 giorni di problemi e criticità vissuti dai residenti della zona. Interventi che poi dovrebbero concludersi nell'arco di due o tre giorni al massimo, l'amministrazione cittadina ha come obiettivo quello di riaprire al transito via Salvatore De Renzi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Dopo l'incendio che ha devastato la collina si è dovuto chiudere il traffico perché c'erano dei rischi di caduta, di detriti. Dopodiché noi abbiamo dovuto ingiungere ai proprietari del suolo di realizzare le opere di messa in sicurezza e abbiamo dato loro un numero di giorni conguro per adempiere a quanto richiesto dall'amministrazione. Questo non è stato fatto e quindi siamo dovuti passare ai lavori in danno. Abbiamo prodotto il progetto, l'abbiamo mandato alla sovrintendenza, la sovrintendenza ci ha risposto perché su quel pezzo di territorio gravano due vingoli, uno paesaggistico e uno del castello. La sovrintendenza ci ha risposto, ieri gli uffici hanno individuato la ditta che realizzerà l'opera, sono certo al 98% che domani inizieranno le opere.